Siamo qui con Giuseppe Guerini, presidente di FEDER Solidarietà Conf Cooperative. Presidente, alle giornate di Bertinoro abbiamo parlato tanto di economia sociale, ne parleremo ancora questo pomeriggio e poi domani. In corso però c'è un'iniziativa importante come il censimento delle istituzioni non profit, che come diciamo noi serve a dare valore al non profit, cioè a quantificare e dimensionare questo settore. Come vi ponete? Voi sostenete il censimento? Possiamo dire qualcosa per incentivare in qualche modo le cooperative e il mondo dell'economia sociale a rispondere? Decisamente io credo che abbiamo un grande bisogno di farci conoscere, di far conoscere meglio tutto l'universo dell'economia sociale. Il mondo della cooperazione sociale ha un sistema di rilevazione dei dati e di presentazione dei dati molto efficace, e quindi molto puntuale, ma in realtà è importante che questi dati vengano continuamente aggiornati e che vengano trattati da un'istituzione come Istat e quindi che diventino un patrimonio pubblico. Noi stiamo sempre più andando verso la società della conoscenza e questi elementi di conoscenza sono anche elementi di valore per farci conoscere e per poter esercitare meglio il nostro lavoro. Poi sono anche dati che ritornano nell'azione quotidiana di ciascuna cooperativa sociale o associazione ente non profiche che risponde al questionario, perché ogni attività di programmazione ha bisogno di questo supporto. Io credo che una mezz'ora di tempo che ci vuole, ho personalmente compilato il questionario per la mia organizzazione e quindi sono davvero una questione di una mezz'oretta, volendo anche fermarsi a pensare a che cosa chiedono effettivamente le domande, e quindi una mezz'ora di tempo ben riposta e sono del parere che costa molto meno un po' di conoscenza in più che una scelta sbagliata e i dati servono per fare le scelte giuste.